C'era uno strano silenzio fra le vie Montaldo e Bagolino, un silenzio misto a molteplici sentimenti che si leggevano negli occhi, tutti rivolti all'insù, a quella palazzina che la scorsa notte ha ceduto, infrangendo le vite di quattro persone. C'era lo sguardo speranzoso e quello di chi le speranze le ha già perse tutte. Poi la tensione diventava sempre più alta. Corre la voce, poi confermata, del ritrovamento del cadavere di Maria Lamattina ed in quel momento che il dolore prende il sopravvento sui tanti familiari e conoscenti radunati in via Bagolino. C'è stato anche qualche momento di tensione con la polizia che inizialmente, per far tenere l'ordine, si era opposta all'ingresso in massa dei familiari che volevano vedere il cadavere. Erano delle persone splendide, racconta padre Giuseppe Turco, parroco della vicina chiesa di Nostra Signore, della consolazione che probabilmente celebrerà i funerali nei prossimi giorni. Marito e moglie ogni domenica, anche quella appena scorsa, erano soliti venire a messe e frequentare regolarmente la parrocchia. Il signore Accardi faceva anche parte del circolo per anziani. Poi, con gli occhi lucidi, commenta, mai poteva aspettarmi di vivere una situazione del genere. Davanti alle strisce rosse e bianche che i carabinieri hanno sistemato, per tentare di arginare la folla che si accalcava per avere notizia, incontriamo anche Giovanni Ferranti che racconta. Negli anni 90 ho fissuto nella palazzina accanto, quella al numero 53, per diverso tempo, subito dopo il matrimonio. Adesso vedere quello che sta accadendo mi fa venire brividi, dice con gli occhi gonfi. Sono qui dalle 5 di questa mattina, proprio perché qui c'è un pezzo del mio cuore. Passano pochi minuti e i carabinieri costringono i presenti, giornalisti compresi, ad indietreggiare. Bisogna andare indietro di almeno 20 metri, dicono. Quando chiediamo spiegazioni la risposta lascia spiazzati tutti, compreso Ferranti. La palazzina al numero 53 rischia di crollare. Scadeva oggi l'ultimatum da parte dell'Assemblea dei Sindaci del lato Palermo 1 che qualche settimana fa ha sottoscritto un documento comune nel quale ha chiesto a Palazzo d'Orleans di farsi da garante per tenere le discariche aperte, in attesa che la stessa regione versi le trimestralità che i comuni attendono da mesi. Questa mattina il sindaco di Partinico, Salvolo Biundo, in qualità di vicepresidente del Lanci, ha incontrato assieme alla delegazione dell'Associazione dei Comuni Siciliani l'assessore regionale Valenti. La giunta regionale ha già varato un provvedimento con cui intende anticipare, tra Natale e Capodanno, la parte delle trimestralità da destinare ai comuni in relativa agli investimenti che ammonterebbe complessivamente a 180 milioni di euro. Questi fondi potranno essere utilizzati dagli enti locali per il pagamento dei vari mutui, in modo da riottenere la liquidità necessaria per pagare il servizio di raccolta rifiuti. Lo schema del disegno di legge sul riordino del sistema dei rifiuti predisposto da Palazzo d'Orleans, che dovrà passare al vaio dell'Assemblea regionale, prevederebbe maggiori poteri per i comuni, sottolinea il sindaco di Partinico, Salvo Lobbiundo. Come Anci non abbiamo avuto la possibilità di esaminare lo schema del provvedimento. Aspettiamo di visionarlo in maniera approfondita, prima di dare dei giudizi. L'accordo prevede anche che la Cassa regionale non chiuda per le festività natalizie, in modo da affrontare così le varie emergenze. Il comune di Partinico, nella giornata di ieri intanto, ha provveduto a versare a lato la seconda errata di 250 mila euro di questo mese. Auspichiamo che questa errata venga utilizzata direttamente per il pagamento degli operai, in modo da dargli la possibilità di passare un Natale sereno, sottolinea il vice sindaco Sergio Bonni. È giusto pagare gli operai prima dei componenti del CdA. Il comune di Partinico ha versato e continua a versare i fondi per le errate del servizio regolarmente, conclude l'assessore all'ambiente Giovanni Pantaleo. Devo dire con dispiacere che senza una risposta da parte della Regione, nonostante il pagamento delle 250 mila euro, rimarranno i problemi. Se si paga la discarica si fermano gli operai, se si pagano gli operai si fermano i noli. A questo punto meglio dare garanzia alle famiglie dei lavoratori. Spero che le risposte del Governo regionale siano risolutive. Ancora il problema dei rifiuti alla ribalta. Oggi una delegazione dei lavoratori del lato stia a Palazzo di Città per avere delle risposte. La delegazione che si è presentata giustamente ognuno rivendica lo stipendio perché giustamente è gente che lavora, è gente che dà un servizio che è utile e indispensabile per il Paese. Dall'altro lato abbiamo la cittadinanza arrabbiata perché paga e non ha un servizio efficiente e giustamente ha ragione. Dall'altro lato i dipendenti che non percepiscono lo stipendio. Qua c'è una grande responsabilità che nel tempo è da additare a tutta la politica in modo generale. Non è un caso che è scoppiato in questi giorni, è un caso che è partito male sin dall'inizio da quando questo strumento è nato. Allora bisogna avere un grande senso di responsabilità e trovare soluzioni concrete in modo che si possa garantire servizio alla gente che paga e garantire lo stipendio anche ai dipendenti. Nell'ultima riunione che c'è stata tra i sindaci e il lato i comuni hanno preso degli impegni di versare una quota parte per quantomeno riuscire a pagare una parte alla discarica per farla riaprire e una parte di stipendio ai dipendenti. Noi dobbiamo dire come i comuni che abbiamo fatto il nostro dobbiamo avere la propria parte. Ieri il segretario ci ha fatto vedere anche la ricevuta di bonifico che è stato fatto al lato di 250 mila euro. Ci sono comuni fra cui dobbiamo versare la stessa quota parte del comune di particolare e oggi non l'hanno fatto e mette in difficoltà tutti un pochettino e mette in difficoltà questi pari di famiglia che giustamente lavorano sotto la festa di Natale e giusto che percepiscono il proprio stipendio. Io invito ai comuni che devono versare la propria parte che lo facciano anche per garantire sotto le feste di Natale il servizio e garantire anche di poter ognuno farsi le feste con le famiglie come è giusto fare. Sono dipendenti e devo dire che lavorano. Lavorano in modo precario e dobbiamo dirlo perché non hanno gli strumenti adeguati per poter lavorare e sappiamo ciò che respirano. Ma quantomeno che ognuno da parte di tutta l'amministrazione anche da parte nostra che noi abbiamo fatto il nostro dovere già ieri, anche le altre amministrazioni facciano il proprio dovere e mettere in condizione questa gente di poter fare un Natale sereno con le proprie famiglie. La cattiva gestione della raccolta dei rifiuti e del servizio idrico resta sempre una problematica di grande attualità cui devono far fronte le amministrazioni comunali di Balestrate, Borgetto, Carini, Capaci, Cinisi, Isola delle Femmine, Giardinello, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta e Trappeto, comuni facenti parti del lato rifiuti Palermo 1. Siamo stanchi e seriamente preoccupati, afferma l'assessore comunale di Carini, Salvatore Nazarini. È necessario organizzare una proposta seria, pacifica e determinata per stabilire un'interlocuzione permanente con gli organi governativi supremi titolari alla soluzione del problema. Non possiamo più subire e vedere il nostro territorio invaso dalla spazzatura, prosegue Nazarini, fonte di pericolo igienico-sanitario e di ordine pubblico, in quanto i sacchetti dei rifiuti invadono le carreggiate stradali. Inoltre, come se non bastasse, il servizio idrico risulta essere decisamente carente, sia nella struttura che nella gestione. Nei giorni scorsi intanto i sindaci dei comuni del lato rifiuti Palermo 1 si sono incontrati a Giardinello, comune nel Paralermitano, con l'intento di redare un documento congiunto da inviare al governatore della regione Sicilia, Rosario Crocetta, e al prefetto Umberto Postiglione, per dettare condizioni e volontà per uscire sia dalla crisi che attanaia gli enti locali, sia per conoscere il futuro della gestione dei rifiuti e dei lavoratori. La situazione è davvero divenuta insostenibile, così come si legge nel comunicato. Le amministrazioni hanno le mani legate contro gli ato che gestiscono la raccolta dei rifiuti. È il servizio idrico. I sindaci, assessori e consiglieri fungono da parapetto alle giuste e motivate reazioni dei cittadini, che lamentano continui disservizi dei due carrozzoni, a volte rischiando linciaggio e violenza da cittadini esasperati, che non trovano punti di riferimento, sfogandosi solo con il sindaco, assessore di turno, che quotidianamente opera e vive nel territorio. Alla luce delle intenzioni del nuovo governo regionale, presieduto dal professore Oserio Crocetta, il quale ha nella propria agenda la rimodulazione del sistema di raccolta dei rifiuti, trasferendo il servizio ai comuni, si ritiene opportuno elargire un forte sostegno, affinché, tempestivamente, si possono sopprimere gli ato e avviare le procedure per trasferire il servizio ai comuni, i quali rischiano a causa degli stessi i relativi dissesti finanziari. Borgetto e Partinico si sono svegliate, decorate e colorate di bianco. Non è la solita neve che di solito cade nel mese di dicembre, creando una magica atmosfera natalizia, ma dei veri e propri volantini di denuncia, appiccicati per le vie principali dei due comuni, riportanti la scritta «Alloiato si può fare», denuncia collettiva. Firmati dall'Associazione Anti-Racket, Anti-Usura, Libero Iato di Borgetto, dall'Associazione Anti-Racket e Anti-Usura Libero Sfogo e dal Comitato Addio Pizzo di Palermo, atti a sensibilizzare i commercianti, gli artigiani e i negozianti a denunciare qualsiasi richiesta di estorsione. È in particolare la richiesta di pizzo che di solito a Natale avviene frequentemente, richiesta dai mafiosi ai negozianti, con la scusa di aiutare economicamente i parenti dei carcerati. L'iniziativa è stata promossa dalla Consulta Anti-Racket, di cui fa parte l'Associazione Anti-Racket Liberiato, il Consorzio COSAR, alcuni sindacati, le chiese ed altre associazioni varie. L'iniziativa è quella proprio allo scopo, è quello di convincere il cittadino a non avere paura, a denunciare e ad avere più fiducia verso le istituzioni. Per domani invece è prevista un'altra iniziativa intitolata Cento strade per un Natale Anti-Racket. Cosa si tratta? Sì, domani abbiamo promosso questa iniziativa, come ha detto bene il Presidente dell'Associazione Anti-Racket, Francesco Bellici, che comunque è il seguito a quell'iniziativa che abbiamo effettuato ieri sera. Domani alle 10 e 30, concentramento in piazza, ci sono le scuole, ci sono le istituzioni, ci sono le chiese, ci sono gli artigiani commercianti che hanno detto no e continuano a dire no, tant'è che a Partenico è nato il Ciccelle Partenico che è comitato cultura e legalità, dove già ci sono 100 adesioni, anzi più di 100. Questo sta a significare che Partenico non dorme, Partenico dice basta, Partenico dice basta a qualsiasi tipo di associazionismo. Quindi in termini di percentuali la denuncia del pizzo è cambiata, i commercianti sono più consapevoli? I commercianti sono stati sempre consapevoli, sempre di più oggi anche perché i risultati che hanno portato negli ultimi periodi all'istituzione a far sì che tutti questi soggetti io li chiamerei oramai degli accattoni, i quali praticamente continuano a fare del male ai loro figli, ai nostri figli e a tutti noi. Noi diciamo basta e domani sarà la dimostrazione palese che Partenico sei svegliata. Quindi Partenico sta cambiando, cresce sempre più la consapevolezza? Sì certo, Partenico sta cambiando, Borgetto sta cambiando, l'associazione Antiracket e la consulta Antiracket sono nate per questo motivo, sempre più forti, andremo avanti, noi non abbiamo paura e cercheremo di convincere tanti imprenditori a denunciare e a fare andare avanti la legalità e dire no alla mafia. La procura ha giudicato incongrua e ha quindi respinto la richiesta di patteggiamento a un anno e 11 mesi di reclusione e 400 euro di multa avanzata nella scorsa udienza dai legali di Massimo Ciancimino accusato di detenzione di esplosivo. Il figlio dell'ex sindaco di Palermo è finito sotto accusa dopo il ritrovamento ad aprire del 2011 nel giardino della sua casa di Palermo di decine di candelotti di Tritolo. Il gruppo a vittoria Anania ha rinviato l'udienza il 25 gennaio, data in cui sarà assentito l'imputato. Già nei mesi scorsi, seppure non formalmente, i difensori del supese della trattativa avevano cercato in vano un accordo sulla pena con i magistrati. Il Tritolo venne ritrovato dopo il fermo del figlio dell'ex sindaco finito in manette per avere calunniato l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. In quell'occasione Ciancimino fece ritrovare i candelotti sostenendo di averli ricevuti da un non precisato personaggio a scopo intimidatorio, salvo cambiare versione quando i magistrati scoprirono che l'indagato si era portato l'esplosivo da Bologna. Il testimone riferì anche di averne dato una parte a un amico e che questi se ne sarebbe disfatto buttandoli in mare, versione che contrastava con quello dell'amico che disse di averla gettato in un cassonetto. Ciancimino Junior è accusato anche di concorso in associazione mafiosa e di calunni e danni di De Gennaro davanti al gruppo che celebra l'udienza preliminare nel procedimento sulla trattativa tra Stato e mafia. È giallo su una frase sibillina pronunciata durante un colloquio in carcere col figlio dal boss Bernardo Provenzano. Quei riferimenti a qualcuno che in carcere non gli vorrebbe bene sussurrato al citofono durante l'ora d'incontro col secondo genito Francesco Paolo resa ancora più inquietante dallo strano tentativo di suicidio che qualche mese prima vide protagonista il capo mafia di Corleone. Sul senso di quelle parole la procura di Palermo che a maggio sondò il padrino sulla sua disponibilità a pentirsi vuole andare a fondo e per farlo ha cominciato col sentire il ragazzo interrogato come persona informata sui fatti dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e dal PM Nino Di Matteo. Francesco Paolo è arrivato in procura ed è rimasto negli uffici dei magistrati per un'ora. Il legale Rosalba Di Gregorio l'ha accompagnato ma non ha partecipato visto che Francesco Paolo era stato citato come testimone e non come indagato. L'interrogatorio finirà nel fascicolo di atti relativo aperti dai PM del capoluogo siciliano a maggio per capire cosa ci sta dietro a un tentativo di suicidio che lascia aperti molti dubbi. Il boss venne trovato da un agente penitenziario con un sacchetto in testa e scattò l'allarme ma sul gesto si è espresso con molta riserva il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che tra le righe ha parlato di una simulazione, uno strano episodio dunque a cui seguì la frase detta al figlio. Sulle capacità mentali del boss però i suoi familiari e l'avvocato hanno molte perplessità tanto da aver chiesto e più riprese e in diverse sedi giudiziarie una perizia neurologica per accertare le reali condizioni del padrino di Corleone. E proprio le riserve sullo stato mentale del padre hanno spinto il ragazzo a dire ai PM di non sapere né a quali presunti maltrattamenti il boss si sia riferito né se le sue parole siano affidabili. Nelle ultime settimane la salute del capo mafia è peggiorato, più di una volta avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precaduto. L'ultima e la più grave nei giorni scorsi il boss è stato operato per un ematoma celebrare sorto proprio dopo una caduta ed è in coma farmacologico. Per i medici le sue capacità intellettive sarebbero irrimediabilmente compromesse. Intanto restano gravissime le condizioni di salute del boss operato d'urgenza nell'ospedale di Parma per la riduzione di un ematoma celebrale determinato da una caduta. Al figlio Angelo a Parma per avere notizie del padri medici hanno prospettato un quadro clinico molto grave anche se il boss che aveva già diverse patologie neurologiche dovesse sopravvivere le sue capacità cognitive potrebbero essere molto compromesse. Le luminarie natalizie che accendono di luce e di feste le principali vie del centro storico di Partinico non sono state ancora collaudate dunque almeno per ora resteranno spente. Il locale commissariato di polizia a tutela della sicurezza pubblica ha ordinato infatti lo spegnimento dell'illuminazione artistica sino a quando gli impianti non saranno collaudati da un tecnico competente regolarmente iscritto all'albo. E così dopo lo stop dell'albero in piazza Duomo per problemi di autorizzazione un altro stop rischia di condizionare il clima festivo. A rimanere al buio dopo il centralissimo corso dei mille saranno anche la via Francesco Crispi e la via Kennedy tutti ricadenti nel centro storico e cuore pulsante del commercio cittadino. La vicenda è immediatamente mobilitato l'amministrazione comunale la quale informa che si sta facendo tutto il possibile per poter riaccendere le luminarie e strettissimo giro di posta e nella massima sicurezza per assicurare alla cittadinanza il tradizionale clima di festa natalizio fatto anche di luce scintillanti. Condannata a 14 anni Salvatore Di Giovanni figlio del boss di Portanova Tommaso è accusato di aver ordinato e partecipato al pestaggio di due cingalesi uno dei quali fu ridotto in fin di vita il 18 ottobre del 2011 alla Zisa. L'azione cui parteciparono anche altri giovani imputati in abbreviato e giudicati separatamente ebbe uno sfondo razziale. La vittima Moarrai Yonatan aveva rivolto delle avance volgari alla sua fidanzata. Parzialmente accolta la richiesta avanzata dalla difesa volta ad ottenere un trattamento sanzionatorio più mite il PM Gianfranco De Leo aveva chiesto 16 anni. A Santa Flavia su segnalazione di un passante è stato rinvenuto un cadavere presumibilmente di sesso maschile completamente carbonizzato. Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di bagheria e il medico legale che stanno eseguendo i rilievi tecnici e l'ispezione cadaverica. In atto si sconoscono le generalità della vittima, indagini in corso dei carabinieri. La seconda sezione del Tribunale di Palermo ha assolto perché il fatto non sussiste due coni giù accusati di violenza sessuale sui loro figli. I fatti contestati dalla procura riguardano il periodo tra il 2004 e il 2006 quando i bambini della coppia che vivevano a Ballarò avevano 5 e 2 anni. I bambini durante l'incidente probatorio avevano raccontato gli abusi che sarebbero stati fatti non solo dai genitori ma anche dai figli della madre avuti in una precedente matrimonio. La loro versione non è stata però considerata credibile dal Tribunale che ha assolto i due imputati con formula piena. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Balestrade intendono dare seguito ai festeggiamenti svolti anche negli anni precedenti in onore delle coppie che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di matrimonio nell'arco dell'anno 2012. La celebrazione che quest'anno coinciderà con il giorno in cui la Chiesa festeggia la Sagra Famiglia si svolgerà domenica 30 dicembre dalle ore 16 con il saluto del sindaco a tutti i convenuti e si concluderà alle ore 17.30 presso la Chiesa Madre con la Santa Messe e la benedizione alle coppie. Sicilia da matita blu o quasi con un 27,3% di ammessi contro una media nazionale che si attesta al 33,5% si è conclusa la due giorni dedicata al test preselettivo del max concorso a cattedra per i docenti della scuola bandito dopo 13 anni dal Ministero dell'Istruzione. Ad avercela fatta su un totale di 39.414 candidati che nell'isola si sono presentati nei due giorni di prova sono stati appena in 10.746. In compenso la Regione è stata tra quelle con il più alto numero di partecipanti. Insomma una prova che l'isola non ha superato proprio con il massimo dei voti e che già da giorni è causa di parecchie polemiche tra associazioni e sindacati che hanno continuato a protestare anche dopo il termine. In realtà si è trattato di un meccanismo esclusivamente finalizzato a tagliare il più possibile il numero dei concorrenti. Una lotteria a premi che omilia la scuola pubblica. Bagno di folla ed assalto di ragazzini alla ricerca di foto e autografi per la delegazione del Palermo che ha preso parte ieri sera al Gran Gala del 26esimo trofeo Costa Gaia. Tutti a rincorrere Abel Hernandez attaccante del Palermo. Il club di Zamparini ha portato alla manifestazione anche il direttore tecnico del settore giovanile Dario Baccin. Il Gran Gala ha visto anche la partecipazione di Italo Cucci direttore editoriale di Italpress e giornalista di Rai Sport. Gianluca 26 edizioni di una Costa Gaia che di anno in anno si rinnova, una tradizione importante quest'anno con le ristrettezze economiche che ci sono però l'importante è esserci ancora. Sì, in effetti è come detto, davanti alle ristrettezze economiche qui prevale la voglia di fare un Costa Gaia sempre di altissimo livello e questo grazie alla collaborazione di tante persone che mettono da parte tutto per dedicarsi a questo importante torneo che vede al centro i bambini. I bambini fino ad un'età di 13 anni, dagli 8 ai 13, che è un'età particolare è un'età in cui i valori quelli sani, quelli veri, in cui lo sport fa cimentare loro crescono e crescono con forza. Noi speriamo che questo torneo come gli altri sia ricco di turismo, di solidarietà, di famiglia, di condivisione, di amicizia, di tanti valori in cui noi crediamo e per questo cerchiamo ogni anno di sostenere questo importante torneo. Penso che sia un momento di aggregazione per tutti, penso che un po' anche voi come televisione vi siete affeccati a questo torneo e per questo vi ringrazio perché le immagini le portate dentro ogni casa così da poter veicolare questo sport bellissimo come il calcio in un ambito più importante. Io spero che i giocatori di Serie A, gli allenatori di Serie A vengano ogni tanto a vedere le partite di questi ragazzi, hanno tantissimo da imparare sia dal punto di vista tecnico ma sia soprattutto dal punto di vista valoriale. Francesco, allora un torneo importante per voi giovani, quali sono le tue aspettative? Beh, fare bella figura in questo torneo, sperare di vincerlo e vedere le altre squadre e contendersi con le altre scuole. Quanti siete in squadra e che età avete? Siamo più di 16 e abbiamo quasi tutti 12 anni. Ve la giocherete con tutte le squadre? Speriamo di sì. Cosa ti senti di dire? No, di non dimenticarsi che il calcio è un gioco, no? Di sempre, ogni volta che andate in campo, provare a divertirsi perché quando dimentichi a volte mi capita a me che dimentico che il calcio è uno sport, è una cosa per divertirsi, a volte pensi di dire ti vorrei fare tutto e pensi che è il tuo lavoro, ma io penso quando scendo al campo di divertirmi e poi il resto è un'altra cosa.